Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. Yukinari Sugawara, promettente calciatore giapponese classe 2000, sta catturando l'attenzione dell'Inter. Attualmente, gioca nella Zeta Alkmaar, una squadra di primo piano del campionato olandese. Ma cosa rende Sugawara così speciale da suscitare tanto interesse? Scopriamolo insieme. Sugawara è un talento naturale con doti straordinarie in campo. La sua tecnica raffinata e la visione di gioco lo rendono un giocatore eccezionale da osservare. Nonostante la sua giovane età, rappresenta un investimento strategico per l'Inter. Un talento come il suo può portare immediati benefici alla squadra, ma anche trasformarsi in una risorsa economica preziosa nel futuro. L'Inter ha già avuto successo con calciatori giapponesi, come Yuto Nagatomo, il cui arrivo ha notevolmente aumentato la popolarità del club in Giappone. Sugawara potrebbe replicare questo successo, espandendo ulteriormente la fanbase nerazzurra in Asia. La versatilità di Sugawara, capace di giocare sia come terzino destro che come centrocampista difensivo, lo rende un elemento inestimabile per qualsiasi squadra. Questa sua poliedricità offre diverse opzioni tattiche all'allenatore, rendendolo un jolly prezioso. Conosciuto per la sua capacità di adattarsi rapidamente a vari stili di gioco, Sugawara può inserirsi senza difficoltà nei meccanismi dell'Inter, apportando contributi significativi fin dal primo momento. La combinazione di giovinezza, talento e potenziale di Sugawara indica che non solo avrà un impatto immediato, ma potrà anche crescere ulteriormente sotto la guida esperta di Simone Inzaghi. Se sei un tifoso dell'Inter o semplicemente un appassionato di calcio, non puoi perdere l'occasione di seguire l'evoluzione di questo giovane talento. Lascia i tuoi commenti qui sotto e facci sapere cosa ne pensi del possibile arrivo di Sugawara all'Inter.